Bassano! 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 Tre vittorie e due pareggi, 11 punti e settimo posto in classifica. Sono i numeri del campionato del Bessica, prossimo avversario del Bassano 1903. Si gioca domenica alle 14.30 sul campo di Via Baroni. Tra le Murami che i trevigiani in campionato non hanno mai perso. Nell'unica sfida diretta con i giallorossi invece nel girone di Coppa hanno dovuto inghinarsi a Fracchese e compagni. Ma era il 2 settembre in questo mese e mezzo di cose. Ne sono cambiate. A rimanere sempre la stessa invece è la voglia di vincere dei Bassanesi che sull'erba del mercante o in trasferta hanno sempre lo stesso obiettivo, conquistare i tre punti. Siamo già andati la Bessica in Coppa, però il campionato è un'altra cosa e vedremo dai. I giallorossi dovranno stare attenti ad Alessandro Frison, capocannoniere del Bessica, finora autore di tre reti tutte decisive. Cinque invece le marcature messe a segno proprio da Xamin, tutte finora dagli 11 metri. Naturale dunque che il centrocampista ex Cittadella punti a realizzare la sua prima rete su azione. Spero di fare un gol da fuori area, però l'importante è la squadra. Ben detto, l'importante è allungare la scia positiva che conta oggi quattro vittorie nelle ultime quattro sfide di campionato, anche perché tra dieci giorni al mercante arriva la capolista Badoere.